covid nelle marche spunta la variante new yorkese vaccini subito dopo pasqua si comincia coi settantenni si tornerà a nascere a pesaro approvata la mozione baiocchi cartocetto dice no alla fusione aset marche multiservizi buona serata eccoci pronti con il nostro telegiornale oggi è mercoledì 24 marzo in apertura questa sera partiamo con gli aggiornamenti riguardanti il coronavirus nella nostra regione marche perché ad ancona sono stati diagnosticati i primi due casi in italia della cosiddetta variante new yorkese ad essere contagiate sono state proprio due persone della provincia di pesaro urbino è una variante del covid 19 finora non descritta in italia quella identificata ieri dal laboratorio di virologia dell'azienda ospedaliere ospedali riuniti di ancona e università politecnica delle marche è stata classificata come new yorkese essendo sequenziata proprio a new york lo scorso novembre nelle marche la variante new yorkese emersa dai tamponi di due persone non apparentemente correlate e provenienti dalla provincia di pesaro urbino l'assessore regionale alla sanità filippo saltamartini ha ricordato come l'asur abbia già prontamente adottato le misure di contenimento dei potenziali focolai e si sta continuamente monitorando la situazione al momento non sussistono evidenze scientifiche sull'eventuale capacità di questa variante di eludere la risposta neutralizzante suscitata dagli attuali vaccini una situazione da decifrare che non aiuta la pressione già alta sui nosocomi all'ospedale di pesaro san salvatore marche nord ieri si è toccato il livello massimo consentito alle terapie intensive 41 posti letto occupati su 41 a disposizione una pressione insistente anche sulla terapia semi intensiva che costringe ora pesaro a guardarsi intorno per ampliare gli spazi d'accoglienza dei pazienti in provincia uno stato di sofferenza diffuso anche agli altri ospedali marchigiani dove in totale siamo da giorni a cifre superiori ai 900 ricoverati complessivi come ricorda il presidente della regione marche francesco acquaroli la terapia intensiva della nostra regione hanno una percentuale di occupazione molto elevata quindi la strategia sarà chiaramente stata quella della mitigazione con tutti i provvedimenti messi in campo sperando che come è successo per la provincia di ancona che sta diminuendo il numero di contagi questo possa avvenire anche per le altre province ma al netto di quelle che sono già i provvedimenti presi saranno le aziende ospedaliere che rimoduleranno e riorganizzeranno quelle che sono le loro capacità di ricezione di tutti i pazienti che si presentano quotidianamente nei pronti soccorsi sempre sperando che l'afflusso di giorno in giorno inizia a diminuire la curva dei contagi sta flettendo dopo l'entrata delle marche in zona rossa ma è una riduzione lenta consistente il calo nella provincia di ancona un po meno in quella di pesaro urbino dove anche oggi si sono registrati 117 casi positivi dei 632 complessivi nella regione marche su 3.250 nuove diagnosi per un totale di 6.402 tamponi processati una percentuale di contagiati rispetto ai tamponi effettuati che ora si alta il 19,4 per cento rispetto al 15,8 per cento del giorno precedente e dai contagi passiamo alle vaccinazioni perché come già comunicato subito dopo pasqua si partirà con le vaccinazioni ai settantenni vediamo il servizio di daniele sacchi aggiornata la roadmap vaccinale sperando questa volta di rispettare i tempi già perché nei piani della regione marche la vaccinazione agli over 80 doveva finire a metà marzo e invece i ritardi nelle forniture dei sieri l'hanno procrastinata almeno ad inizio aprile ma si cominciano a programmare concretamente le fasi successive l'assessore regionale alla sanità filippo saltamartini ha aggiornato nel consiglio regionale di martedì che le prossime due categorie a cui spetterà il vaccino saranno i disabili gravi assieme ai loro familiari e dopo tanti rinvii entreranno in gioco anche i cittadini marchigiani compresi fra i 70 e 79 anni nei primi giorni di aprile sarà infatti aperto il canale di prenotazione anche ai settantenni sul sito di poste italiane con la prospettiva di somministrare le prime vaccinazioni dopo pasqua programmi che nascono sulla base di rassicurazioni governative che dovrebbero consegnare alle marche 210 mila vaccini per un milione complessivo nel trimestre aprile giugno secondo la regione non sono attese aggiunte ai 25 punti vaccinali in regione al di là del programmato cambiamento a pesaro dal monaldi all'ex risto che entrerà in funzione lunedì 29 marzo intanto resta in alto mare l'ipotesi ventilata a livello nazionale del coinvolgimento delle farmacie nella campagna vaccinale è una cosa che noi come assofarm che è l'associazione che rappresenta tutte le farmacie comunali d'italia di cui io sono vicepresidente abbiamo più volte auspicato già nella legge di bilancio per il 2021 c'è un richiamo al fatto che il sistema capillare delle farmacie possa essere così non utilizzato ma investito insomma dell'insieme all'interno della campagna vaccinale considerate che noi ancora siamo a un piccolo passo proprio di questa campagna e che presto partirà così alla grande per poter arrivare a raggiungere il numero massimo delle popolazioni e la capillarità delle farmacie sul territorio siamo circa 19.500 a livello nazionale permetterà di poter dare un aiuto grande non si ha ancora la percezione su quando finirà questa maledetta pandemia ma intanto si ragiona sul dopo pandemia dell'ospedale di pesaro il consiglio regionale ha infatti approvato all'unanimità la mozione di nicola baiocchi che impegna la regione a riaprire il dipartimento di maternità all'ospedale san salvatore nell'ambito della realizzazione degli ospedali riuniti marche nord si era deciso per per motivi di covid di spostare al reparto di materno infantile a fano chiaramente nessuna pregiudiziale nei confronti di fano che è un ottimo reparto ma quello che noi abbiamo chiesto fortemente al presidente acquaroli e alla giunta l'assessore santa martini quello di garantirci che una volta terminata questa fase questa fase pandemica si ritornasse all'origine in quanto l'ospedale di pesaro nella palazzina f è ospitato sempre questo reparto ha fatto moltissimi investimenti i numeri sono assolutamente buoni di un reparto di eccellenza quindi sia i medici che tante famiglie ci hanno chiesto questo ritorno quindi c'è stata la volontà politica molto importante a differenza della precedente giunta di riportare questo reparto a pesaro ecco la il calare dell'emergenza è una precondizione necessaria ma naturalmente la logica porterebbe in automatico a riaprirlo però bisogna appunto che ci sia un impegno politico sostanziale alla base per fare questo passo assolutamente sì perché la palazzina f come tutti sappiamo è occupata adesso con tutti i pazienti covid quindi non si può minimamente pensare di ripristinare questo reparto prima che sia terminata la fase la fase pandemica e successivamente a questo provvedimento di spostamento non c'era stata la volontà politica della precedente giunta di riportare o meno di impegnarsi a riportare a pesaro questa quindi ancora di più per questo per questo motivo è un risultato veramente importante tengo però sinceramente a precisare che sono un po dispiaciuto perché il risultato è un risultato molto importante qui non è una una guerra chi è più bravo più veloce ad ottenere ad ottenere i risultati però purtroppo la la minoranza del partito democratico ha la presunzione da un lato di criticare legittimamente l'operato della della giunta della regione in in tante situazioni e cerca anche di prendersi meriti i provvedimenti che non sono i suoi questo secondo me sinceramente troppo ieri le nostre telecamere vi hanno mostrato presso l'istituto agrario cecchi quello che è il progetto per la ristrutturazione del convitto ebbene oggi è andato in questo istituto l'assessore regionale alle infrastrutture francesco baldelli che ha voluto personalmente vedere la situazione villa caprile attendeva interventi da troppo davvero troppo tempo spiegabile che sia passato oltre un decennio anzi oltre due decenni per realizzare interventi che servono alla nostra comunità ad un istituto che è una perla della scuola della nostra provincia della nostra regione del centro italia tre oltre 3 milioni e 700 mila euro investiti qui sono 3 milioni e 7 investiti per il futuro e per lo sviluppo economico del nostro territorio il primo stralcio di tre stralci previsti che vedranno realizzato un convitto perché è importante il convitto in questa in questa scuola perché questo è un istituto scolastico che ha aumentato fortemente le adesioni degli studenti non solo della provincia di peso l'urbino ma anche delle regioni limitrofe oltre 200 studenti che arrivano dalla vicina romagna studenti che arrivano dall'entroterra che hanno bisogno di servizi per poter creare il proprio futuro ma per poter dare alla scuola strumenti per diventare ancora più attrattiva le mie congratulazioni al preside alle sue collaboratrici e ai suoi collaboratori per l'impegno per il cuore che mettono nell'esercitare la loro professione e nel rendere veramente un gioiello dell'istruzione marchigiana a questo istituto che ha sede in provincia di pesaro nel capoluogo provinciale di cui noi siamo orgogliosi e fieri i tempi verranno dettati da un decreto del ministero per la realizzazione dell'opera per l'erogazione dei fondi ma noi vogliamo guardare avanti abbiamo già chiesto al ministero e al governo fondi per la regione Marche pari a 200 milioni di euro magari da cingere al recovery fund per mettere in piedi subito altri 100 cantieri in questa nostra regione perché dobbiamo investire in edilizia sicuramente sanitaria e ospedaliera dobbiamo investire in infrastrutture stradali e ferroviari dobbiamo investire nel futuro dei nostri ragazzi quindi nella sicurezza e nella qualità degli edifici che noi mettiamo a disposizione dei nostri dirigenti scolastici degli operatori degli insegnanti nelle nostre scuole ma garantire alle famiglie che i nostri edifici hanno un elevato standard di sicurezza non vi sarà sfuggito che proprio in queste ore verrà pubblicato un decreto sulla ventilazione meccanica controllata nelle aule per garantire appunto la salubrità degli ambienti ambienti quindi interventi sulla vulnerabilità sismica degli edifici sull'efficientamento energetico sulla salubrità degli ambienti che giornalmente vengono frequentati da migliaia di studenti dai loro insegnanti dagli operatori scolastici ecco il cambio di passo di cui parlavo all'inizio la necessità di investire sul futuro di questa nazione e il futuro sono i nostri giovani il progetto iniziale era di spostare il convitto anche perché la struttura ormai non è più adeguata alle esigenze degli studenti e ricavarci delle aule quindi evitare che la scuola vada incontro a un dispendio di risorse di energie con l'asilo benvenuti e le stesse aule ricavarle dove era l'ex convitto e sarebbe veramente un'opportunità grande perché avere tutti gli studenti all'interno di questo sito crea migliori condizioni per una didattica di eccellenza e una un'efficacia dal punto di vista dei servizi scolastici ed ora cambiamo completamente argomento e parliamo delle ipotesi che aleggiano circa una possibile fusione tra le società di servizi della provincia azete marche multiservizi un'alleanza verso la quale storcono però il naso diversi comuni fra i più agguerriti il sindaco di cartoceto enrico rossi che ci spiega in questa prossima intervista le ragioni del suo secco no alla fusione ho definito l'operazione una porcata politica perché sono convinto che risponda soltanto degli interessi di parte non soltanto di carattere economico ma anche di carattere politico che non sono gli interessi di famiglie e di imprese tra l'altro la mia guardia non è assolutamente una posizione ideologica o religiosa come qualcuno l'ha definita perché cartoceto tra l'altro nel 2016 deliberò per primo in consiglio comunale l'avvio della fusione tra aset holding e aset sp ama oggi però c'è in ballo la difesa di una multi utility a totale capitale pubblico della quale gli utili vengono completamente reinvestiti sul territorio dai comuni vale a dire in servizi ed investimenti è bene invece ricordare per far capire ai cittadini qual è la rilevanza di questa questione che nel caso di fusione tra aset e marketing di servizi il 50% circa 46 e qualche cosa degli utili finirebbe quindi in mano ad era cioè a bologna in mano privata tra l'altro la seconda motivazione che qualcuno cerca di addurre onestaneamente anche in maniera disgustosa rispetto alla fusione marketing di servizi ovvero quella di paventare l'eventuale rischio di alcuni posti di lavoro nel caso in cui aset non accetti di fondersi in questa nuova società non trova assolutamente riscontro in quelli che sono i dati della società panese una società assolutamente in salute non lo dico io lo testimoniano tutti gli indicatori economico finanziari tra l'altro anche il quadro occupazionale il trend occupazionale degli ultimi anni quindi è bene dire anche rispetto a questo secondo motivo che non c'è assolutamente nessun posto di lavoro di lavoro a rischio per ciò che riguarda il personale dipendente di di aset due dati inoltre interessanti a ulteriore testimonianza della della tesi che sostengo il 15 per cento in più negli ultimi anni come media ponderata del costo per abitante del servizio di igiene ambientale nei comuni serviti da marchi di servizi rispetto a quelli invece serviti da aset così come il 50 per cento in più di investimenti per ciascun abitante nel campo del servizio idrico da parte di aset rispetto a marchi di servizi credo che siano dei dati molto interessanti che le amministrazioni che saranno responsabili di decidere in un senso e nell'altro devono tenere in considerazione ripeto nell'interesse dei cittadini delle famiglie e delle imprese ciò non toglie così come ho avuto modo più volte di ribadire che aset debba ovviamente rimanere nel pieno della propria autonomia aperta rispetto a eventuali collaborazioni con altre realtà tra le quali anche marchi di servizi ma ripeto nella piena autonomia Anche Pesaro oggi si è unita al minuto di silenzio in tutta Europa per le vittime da Covid-19 il vice sindaco Daniele Vimini e il presidente del consiglio comunale Marco Perugini si sono uniti alla rete di EuroCities assieme a circa 200 città europee per ricordare le migliaia di persone morte ad un anno dall'inizio della pandemia E' stata riaperta oggi la presentazione delle domande per ricevere i buoni spesa messi di nuovo a disposizione dal Comune di Pesaro bonus che si potranno richiedere fino alle 13.30 di lunedì 29 marzo possono farne richiesta sul sito del Comune le famiglie di un componente che hanno percepito a febbraio 2021 un reddito inferiore agli 800 euro quelle di due componenti con reddito inferiore a 1000 euro e poi ancora di tre o quattro componenti con reddito inferiore a 1200 euro con cinque o più componenti e reddito inferiore a 1500 euro come ho detto poco fa si può ricevere da un minimo di 140 euro per le famiglie da un componente a un massimo di 380 euro per quelle da cinque componenti attraverso il sito del Comune appunto si può fare la richiesta oppure telefonando allo 0721 17 43 662 e sempre sul sito e sui canali social del Comune di Pesaro si celebrerà domani il Dante D in occasione del 25 marzo giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri nell'occasione a partire dalle 17 il Comune di Pesaro illustrerà le iniziative che celebreranno questo 2021 dedicato al settecentesimo anniversario della morte del sommo poeta fra mostre ed incontri nell'occasione domani si terrà anche una lezione su Dante tenuta dal poeta Gianni Delia Ed ora il consueto spazio dedicato alle vostre segnalazioni vi ringraziamo come sempre per farci partecipi di quello che segnalate quello che vedete che non va in città alcuni residenti di via Fratelli Bandiera ci hanno inviato queste foto che si riferiscono ai marciapiedi della strada in questione in zona Pantano marciapiedi che continuano ad essere pericolosamente dissestati nonostante come ci scrivono appunto i telespettatori è stata già fatta segnalazione alle autorità competenti del Comune di Pesaro ma non c'è stato alcun intervento e allora cercheremo di risolvere questa situazione lo faremo noi andremo a interpellare chi di dovere e continuiamo a celebrare la settimana della poesia alle scuole superiori pesaresi che partecipano al progetto il pane e le rose anche questa sera vi proponiamo quindi una video lettura di poesia che ci è stata inviata dagli studenti dell'istituto agrario Cecchi Giochi di bambino portare al cielo i bianchi acheni del tarassaco maturo ad ogni soffio un gran volare di speranze e sogni da realizzare ora di gioie infantili e ingenue è pieno il mio giardino e lieto resto ogni volta a guardare i pensieri leggeri di ieri che ad ogni sbuffo di vento riprendono lievi a volteggiare è pronta a partire la seconda edizione di generazione silver il programma di rossini ti nato dall'idea dell'associazione 50 e più di conf commercio marcello mammini ci dà un'anticipazione di quello che vedremo a partire proprio da domani giovedì 25 marzo con la prima puntata in programma alle ore 19 le recenti restrizioni imposte dalla pandemia ci hanno costretto a rivedere tutta la nostra programmazione quindi niente più incontri che facevamo in persona niente più organizzazioni di convegni o visita mostre in città come Forlì, Padova, Bologna e non più incontri in presenza e come facciamo a stare vicini ai nostri associati ci siamo inventati questa trasmissione generazione silver per poter far sentire ancora la nostra presenza e come tutti sanno ci sono stati negli ultimi decenni dei cambiamenti demografici piuttosto importanti le persone anziane sono aumentate nel 47 si parla del 40% di popolazione anziana e l'anziano chiaramente deve essere non più quello che si vedeva una volta deve essere attento, sano, avere un buon stile di vita preparato tecnologicamente perché come abbiamo visto in questi ultimi tempi bisogna essere padroni dei mezzi tecnologici proprio per poter comunicare e sopravvivere Generazione Silver vuol fare tutto questo essere vicina non solo ai nostri associati di 50 e più la trasmissione dell'associazione 50 e più che è una costola di concommercio ma adesso si è resa autonoma ed è vicina un po' a tutti gli anziani in generale abbiamo un obiettivo molto importante far sentire l'anziano più fiducioso in se stesso, nei propri mezzi, più attivo quindi presenteremo non solo conferenze, interventi di esperti ma anche incontri con personaggi della provincia più o meno noti anzi alcuni sono proprio delle curiosità, siamo andati alla scoperta di qualcuno che dimostri che anche l'anziano può essere giovane, creativo avere delle idee, fare delle cose e insomma vogliamo fare un'iniezione di fiducia e fare anche un po' sorridere qualche volta E allora non perdetevi l'appuntamento di domani intanto vediamo la programmazione su Rossini TV infatti questa sera due programmi molto interessanti a partire da questa prima puntata della Nutrizionista Chilometro Zero un programma organizzato dalla Col di Retti in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche progetti, programmi ma soprattutto cucina e prodotti a Chilometro Zero questa sera alle ore 21.15 Alle 21.30 invece a seguire ci sarà una nuova puntata di BP Cube Innovation District in forma i protagonisti saranno Moreno Bordoni che è segretario della CNA di Pesaro Urbino ed Enrico Battistelli che è il fondatore di BP Cube questo approfondimento molto interessante per le aziende in modo particolare sarà questa sera alle 21.30 E poi continuiamo appunto vi ricordo domani la prima puntata di Generazione Silver alle ore 19 questo approfondimento per tutte le persone della terza età con tante notizie utili ma anche pratiche e poi domani sera l'appuntamento con il basket insieme a Canestro gli ospiti di domani sera alle 21.15 ci saranno Paul Eugua che è l'ala della Carpegna Prosciutto poi ci sarà Sandro Cangiotti che è il titolare di Biolab e poi Giancarlo Sacco ex allenatore della VL Abbiamo detto veramente tutto io adesso vi lascio con il meteo per i prossimi giorni e vi do appuntamento a domani con la nostra rassegna stampa